Al dietro per Renzetti, Sanitana che può respirare un attimo, Soligo, Russo di prima, in avanti Renzetti recupera, Gabbionetta Su di lui Merino che viene fermato, poi ferma ancora a sua volta, tenda il pallonetto E gol! E che cos'è questo? Mamma mamma, signori, è l'esaltazione del protagonista Merino Ramirez Che gol da centrocampo, a Castori, Castori, potevi pensarci prima, e che gol, rivediamolo, è d'antologia calcistica Inutile il tentativo di Coser, e Ramirez piazza il pallone in fondo a sacco Ed è lui, l'eroe della Rechi, Roberto Ramirez Merino E l'esplosione al trentasettesimo della ripresa Sì, ha monito, ma l'arbitro può fare ciò che vuole Dovrebbe solo stringergli la mano per il gol che ha realizzato E da Scanding Ovation ed è tutto la Rechi in piedi Dovrebbe veramente fare a me il tecnico Castori Per quello che aveva detto che non era un calciatore Ma tutto sommato ha esaltato questo pomeriggio della Rechi Con un gol da antologia da centrocampo Ha piazzato un pallonetto Che ha colto di sorpresa a Coser E ha mandato invisibilio Tutti, tutti Anche chi vi parla È stato un gol eccezionale Francamente Uno di quei gol, di quelle giocate Che ti fa far pace con il calcio E francamente Non riusciamo a comprendere Che cosa abbia Condizionato le scelte Le scelte di Castori Grazie a tutti